ciao a tutti in particolare a voi perché il venerdì è il giorno ma con questo breve video vorrei invitarvi a seguire la via Crucis che come ogni venerdì viene trasmessa dalla federazione oratori milanesi a tutti gli oratori della nostra diocesi poi metteremo il link così ognuno di voi potrà seguirla in diretta cosa faremo questa mattina in questi brevi minuti vedete che sulla croce che noi usiamo al venerdì venerdì è il giorno della croce ricordatevi non si celebra l'eucaristia proprio per questo è una particolarità del nostro rito ambrosiano su questa croce i simboli li abbiamo commentati venerdì scorso ma oggi compare questo altro simbolo una un lenzuolo bianco una stola bianca che cos'è è chiamata termine tecnico la sindone così dice il Vangelo sopraggiunta ormai la sera Giuseppe da Rimatea membro autorevole del Sinedrio che aspettava anche lui il regno di Dio andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù coraggiosamente perché? perché i discepoli di Gesù temevano di fare la stessa fine di Gesù Gesù era andato in croce anch'io rischio di andare in croce Giuseppe da Rimatea invece con il coraggio della fede va da Ponzio Pilato l'imperatore del momento continuiamo Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato al centurione lo interrogò informato dal centurione concesse la salma a Giuseppe egli allora comprato un lenzuolo lo calò giù dalla croce e avvoltolo nel lenzuolo lo depose in un sepolcro scavato nella roccia poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro ecco quel lenzuolo che Giuseppe da Rimatea comprò era quasi uguale a questo un po' più lungo perché doveva servire per avvolgere il corpo di Gesù ormai cadavere poi vedrete se avete tempo col papà e la mamma oggi guardate il video di cui troverete il link una spiegazione della sindone Giuseppe da Rimatea compra questo lenzuolo lo stende per terra sopra ci mettono il corpo di Gesù morto poi lo ricoprono con un altro pezzo di lenzuolo e questo serviva anticamente come involucro per accompagnare i morti al cimitero poi questi morti venivano imbalsamati oppure venivano unti con dell'olio profumato che serviva anche per allontanare l'odore acre che il passare del tempo poteva dare al cadavere stesso viene deposto in un sepolcro addirittura ci mettono una pietra sopra l'entrata del sepolcro perché nessuno entri basta tutto è finito la storia di Gesù sembra finita invece tutto si apre al mattino di Pasqua la risurrezione vedremo in seguito oggi il lenzuolo di Gesù la sindone di Gesù nelle varie vicende nelle varie epoche della storia poi questa sindone è passata di mano in mano c'è stato un incendio poi è stata presa dai crociati poi è stata portata in Francia è stata rinchiusa in un convento della Francia ma qui venne un incendio si rischiò di perderla e invece venne salvata la sindone poi per varie vicende storiche più o meno belle più o meno intriganti la sindone arrivò fino a Torino proprio nelle mani di San Carlo Borromeo e là a Torino rimase può essere ancora vista da tutti anzi vi invito davvero quando sarà passato questo periodo così brutto del coronavirus magari andare col papà e la mamma nel Duomo di Torino dove la sindone è visibile è il volto vero di Gesù su questa sindone e rapporti scientifici eccetera hanno individuato proprio il volto il corpo di un uomo il corpo di Gesù e allora oggi ci lasceremo guidare nella nostra preghiera da questo simbolo così importante per la fede cristiana e per la vita di Gesù Cristo e dei cristiani oggi era il giorno in cui portare in chiesa per i poveri il dono dello zucchero ecco non possiamo farlo però teniamolo lì terminata questa vicenda del coronavirus la porteremo qua in chiesa questi doni poi verranno presi dagli incaricati della nostra Caritas verranno preparati per i poveri per i bisognosi ultima cosa questa sera farò la via crucis qui in diretta dalla nostra chiesa per tutto il decanato della Valle Olona perché vogliamo ricordare in particolare tutti coloro che sono stati uccisi hanno perso la loro vita per il Signore e per il bene degli altri i missionari potrete anche voi partecipare a questa preghiera ciao a tutti bambini di seconda ciao ciao ciao